Una sorpresa in testa al campionato è la Roma di Garcia dopo 5 giornate da sola con 15 punti davanti al Napoli e alla Juventus con 13. Un verdetto davvero inatteso per questo torneo che sta rivelando dimensioni, squadre e sensazioni tutte nuove. La Roma di Garcia è stata molto efficace, ha battuto per 2-0 la Samp, dunque un avversario comunque non facilissimo con i gol di Benatia e di Gervinio, ma soprattutto ha dato una dimostrazione di potenza e di equilibrio, due doti che sono fondamentali per una squadra che si vuole battere per lo scudetto. Questo ha assicurato il nuovo tecnico Garcia che ieri tra l'altro è stato espulso per un battibecco piuttosto violento con l'arbitro, ma dicevo una squadra che è riuscita finalmente a trovare una quadratura, un equilibrio che ha sempre in totti una grande fonte di ispirazione ma soprattutto ha tantissime soluzioni offensive con Gervinio naturalmente e poi con Borriello con lo stesso Liac sono molte le chiavi di questa squadra in avanti. Il Napoli invece ha subito la sua prima battuta di arresto stagionale, è stato costretto all'1-1 interno dopo un gol in partenza dall'alto di Zemaili che lo aveva lanciato dal Sassuolo, il Sassuolo che aveva incassato 7 gol dell'Inter ha cambiato 5 titolari su 11, si è presentato con uno spirito completamente diverso sul campo di Napoli ed è riuscito a pareggiare con Zasa, addirittura a minacciare ulteriormente anche la porta della squadra di Benitez che ha dimostrato ancora una volta una certa permeabilità in fase difensiva, una certa debolezza in quel settore. Devo dire che il Napoli è impressionante quando tiene il gioco, è una macchina che non si ferma e ha degli avanti incredibili come Higuain naturalmente e come lo stesso Amzic che poi si inserisce con tempestività, ma in difesa qualche cosa non funziona bene, lo abbiamo già detto in altre circostanze e questa volta il prezzo è stato molto caro. Risale invece la Juventus a quota 13 come il Napoli aiutata anche dall'abitro De Marco e dal guardanine Preti che non hanno visto un gol validissimo, anzi hanno annullato un gol di Paloschi per fuorigioco, un fuorigioco inesistente, sarebbe stato il gol del 2-1 per il Chievo, invece poi un autorete del Chievo nel finale ha consegnato la vittoria alla squadra bianconera. Ancora una Juventus dunque che stenta sul piano dell'equilibrio del gioco, che fatica a replicare i ritmi e la qualità vista un anno fa, però ha un potenziale offensivo importante e con gli Orente che abbiamo rivisto in campo e con Tevez, un potenziale che l'anno scorso non aveva, dunque quando appena la squadra ritroverà il suo binario di efficienza, c'è da aspettarsi una Juve molto forte. Con passo faticoso invece il Milan ha finito 3-3 in maniera assolutamente rocambolesca a Bologna e con due gol nei cinque minuti di recupero finale, era sotto 3-1 fino al quarantesimo e solo la distrazione complice del Bologna ha permesso alla squadra, tra l'altro priva di Balotelli, di Montolivo, di El Sharavi e di De Sciglio comunque di risalire la china e di mantenersi a quota 5 in classifica nonostante una prestazione del Bologna molto buona, soprattutto nel secondo tempo. Anche il Milan ha giocato bene, si è portato spesso in zona gol e è stato molto bravo Curci, ma molti anche gli errori di tiro degli avanti rossoneri che hanno sprecato un'infinità di occasioni. Grazie a tutti! Grazie! Grazie!